Un saluto molto speciale in questa festa del 31 gennaio, la grande festa del nostro padre Don Bosco, a tutta la famiglia salesiana della Slovacchia. Sarà un piacere, un vero piacere trovarvi e trovarci, aspetto sia nel 2016 perché il 15 non è possibile, ma vi dico carissimi veramente sono molto contento perché so che la realtà della nostra famiglia nella Slovacchia è una realtà bella, è una realtà di maturità e allo stesso tempo giovanile. In questo momento dico giovanile e ho qui frente di me sei giovani della vostra ispettoria e questo è veramente un motivo di vera gioia. In questo anno del vicentenario soltanto vi dico, Don Bosco senza dubbio ci chiede due cose, mi sembra. La prima di crescere, ma di crescere in autenticità, di crescere veramente in fedeltà al Signore Gesù nel nostro carisma che condividiamo e secondo se è possibile di crescere anche tra di noi nel numero, di fare che altri possano trovare il fascino che noi abbiamo trovato in Gesù e in Don Bosco. Complementi, vi saluto con tanto affetto e buona festa di Don Bosco a tutti voi e ci vedremo credo che non tardi. Ciao carissimi, ciao!